Oggi è veramente una bellissima giornata, sono arrivati Martino e Lorenzo dal lungo viaggio da Roma per noi, per tutti i ragazzi di Raffa Rotelle, per riuscire ad attrezzare questo pezzetto di parco. È un bellissimo pomeriggio di festa con tante persone, tutte piene d'affetto. Niente, ringrazio veramente tutti per tutte le emozioni che ci hanno fatto provare questo bellissimo pomeriggio. Grazie.